Lavorare al Parlamento Europeo significa fare parte del cuore pulsante della democrazia europea, significa essere in contatto ogni giorno con persone provenienti da tutto il mondo che credono in questo progetto, significa essere in contatto con i maggiori esperti di politica internazionale e di tutte le questioni internazionali. È un ambiente dinamico, internazionale e unico al mondo ed è per questo che lo consiglio a chiunque voglia fare un'esperienza del genere.